Il film ben decidiamo di... All'epoca che io era la provincia... Ah, buon danza! Parliamo con la gente... ...di quale comune ci partecipa... Grazie! Così noi! Guanto! Grazie. Grazie! Ci hai preso libero noi! Per produrre queste energie noi ci stiamo completamente giocando l'acqua della nostra regione, ricordiamoci che noi in Basilicata abbiamo all'incirca il 35% dell'acqua di tutto il bacino idrico dell'Appennino Meridionale. Per scavare questo petrolio a 7 km c'è bisogno, le trivelle non ce la fanno a trivellare da sole, c'è bisogno di liquidi chimici, circa 500 liquidi chimici, quindi la trivella scava però va aiutata per arrivare a 5 km, 6 km di profondità da questi liquidi chimici. Il tumore mi auguro che lo prendano le multinazionali e tutti i politici che hanno indascato le tangenti mi! 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 mi!